Adesso invece andiamo a sentire un esempio in stile un po' gezzato, un po' swing e qui vi faccio vedere quanto è facile utilizzare questo arranger anche per i pianisti che magari sono abituati proprio a suonare in un modo avanzato, pianistico, senza preoccuparsi di quello che normalmente fino ad oggi faceva l'arranger classico. Adesso invece con la modalità nuova che è stata introdotta che si chiama appunto Pianist 2 in associazione rigorosamente con Bass Inversion noi non abbiamo più questo problema e cioè possiamo suonare come siamo abituati assolutamente senza cambiare, senza modificare il nostro modo di suonare. Let me see what spring is like on Jupiter in Mars In other words Hold my hand In other words Baby kiss me Fill my heart Fill my heart with song Let me sing forever more You are all I long For all I worship and adore In other words Please be true In other words I love you I love you I love you I love you Fill my heart with song Fill my heart with song Fill my heart with song Let me sing forever more Let me sing forever more You, you are all I long For all I worship and adore In other words Please be true In other words In other words In other words I love you I love you